Ciao a tutti, oggi ci troviamo al Santiago Bernabéu, uno stadio che può ospitare fino a 100.000 persone, non contemporaneamente ovviamente. Facciamo a turno? Proprio qui ieri sera ci sono stati i festeggiamenti del Real Madrid per la vittoria della Champions League, proprio lì. Per l'occasione sono stati liberati i tori in mezzo alla folla, è una tradizione antichissima, non tutti però, solo quelli che hanno ascendente sagittario.